In spiaggia l'ordinanza di divieto non si legge più, mentre dal mare fanno capolino materiali in legno e metallo. Ci troviamo in una spiaggia di San Leone e questa è la situazione che viene denunciata dall'associazione ambientalista Maramico Agrigento. A San Leone, dal fondo del mare, nella zona dell'ex Oceano Mare, scrivono dall'associazione, sono venuti fuori pericolosamente una decina tra ferri, legni e tubi. Di certo non un bello spettacolo, ma il problema denunciato da Maramico, che ha fornito anche le immagini che state vedendo, riguarda un rischio per l'incolumità dei frequentatori della spiaggia, prima ancora di pensare ad una questione ambientale. La zona, infatti, secondo quanto sostiene Claudio Lombardo, responsabile di Maramico, è un posto molto frequentato da chi pratica il surf, il windsurf e il kitesurf. Senza essere allarmisti, si legge nel comunicato denuncia dell'associazione ambientalista, si può affermare che i ragazzi ogni giorno rischino la vita, e a poco serve l'ordinanza di divieto, il cui cartello che l'annugiava è già sparito. La colpa di quanto accaduto è sicuramente di chi doveva controllare non l'ha fatto, conclude Maramico, e non certo della proprietà del chiosco, che ha pagato inutilmente la ditta per la bonifica dei luoghi. Proprietà che, a dire dell'associazione, potrebbe anche essere parte l'ESA.